Sempre più persone, soprattutto anziani, si ritrovano vittime di quelle che sono le truffe legate alle utenze, luce, acqua e gas. L'avvocato Carlo Gasparro ha voluto spiegare quali possono essere e come evitarle. Molti episodi sono successi a Cremona. Un primo strumento fondamentale viene messo a disposizione dalla legge di bilancio del 2018, la quale ha introdotto un termine di prescrizione biennale. Questo significa che tutte le richieste di pagamento che risalgono a un periodo precedente al biennio sono prescritte, conseguentemente queste somme non sono dovute. La bolletta non è una prova dell'avvenuto consumo, quindi se un consumatore o un'azienda contesta quella bolletta, allora sorge l'obbligo per la compagnia che ha inviato la bolletta di provare quel consumo. È un fenomeno diffusissimo quello delle truffe. Cosa succede? Sono delle persone che bussano a casa, si presentano alla porta e ti chiedono se sei interessato ad avere, se vuoi risparmiare dei soldi su una certa fornitura. Il consumatore dice di sì, allora loro chiedono di dargli una bolletta. Il consumatore in buona fede dà questa bolletta, ma nel momento in cui dà questa bolletta, loro prendono dei dati relativi all'utenza e in questo modo attivano dei contratti a sua insaputa. Non mettete mai a disposizione i vostri dati di fornitura, i vostri dati personali. Quindi un consiglio molto utile, non fatevi mai inviare le bollette per posta. Poi si possono verificare anche tramite call center delle chiamate, si prendono dei sì dal consumatore, lì si fa dire dei sì, poi questi sì vengono montati su un'altra registrazione e uno si trova vincolato a determinati contratti che non voleva. o per il fischio.